Ciao, benvenuti su Mentitaro. Questo interativo di oggi cerca di esplorare la situazione in cui ci troviamo a dover prendere una strada o a dover prendere una decisione e vorremmo seguire il nostro istinto, la nostra intuizione, il nostro intuito. Però non siamo sicuri di far bene e che le conseguenze siano positive per noi. Quindi con questo interattivo esploriamo le conseguenze nel caso decideste di seguire il vostro istinto, i pro, i contro e considera carta dell'archetipo su cosa tenere in conto per poter decidere serenamente e su che atteggiamento è meglio tenere in questa occasione. Come al solito abbiamo tre varianti fra cui scegliere. La prima è con l'opale bianco, la seconda è con l'avventurina verde e la terza con il quarzo di rocca. Potete scegliere anche più di una variante nel caso ci siano più di una situazione in cui sentite di dover seguire il vostro intuito. È interattivo senza limiti di tempo, quindi è valido al momento in cui lo guardate e copre di solito un periodo di due e tre mesi. Dunque vi consiglio di stoppare il video un momento, scegliere con calma e seguendo anche in questo caso il vostro intuito, la variante o le varianti che più vi comunicano. Per ognuna di loro potete appunto identificare la situazione che volete esplorare e poi andare direttamente al capitolo che descrive la variante scelta. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed iniziamo con la prima variante, quella dell'opale bianco. Vediamo innanzitutto le energie in cui vi trovate in questa situazione. Vediamo con le carte Dixit. E abbiamo questa bellissima carta dove è disegnato un libro in una lingua possibilmente sconosciuta o comunque strana che viene da un mondo diverso, sconosciuto, inesplorato, che si apre e da cui quindi esce un piccolo razzo che viene appunto da un universo dall'universo appunto magari da una parte anche sconosciuta. A me dà l'idea proprio che questa carta descriva una situazione in cui voi avreste la passione, l'istinto, il piacere di esplorare mondi sconosciuti, di andare un po' all'avventura, di buttarvi un po' come il matto in situazioni non chiare, diverse dalla vostra zona di comfort, proprio per una volontà di ricerca, di esplorazione, anche di avventura, no? Sembra un po' una scena di Star Trek questa carta. E quindi probabilmente appunto vi trovate a dover nell'imbarazzo perché appunto avreste questa volontà ma non sapete appunto perché vi buttereste un po' come nel matto, nel vuoto e non sapete a cosa andrete incontro. Vediamo le conseguenze di questa possibile decisione di seguire il vostro istinto, la vostra intuizione, quali sarebbero con i tarocchi. E abbiamo l'eremita, il cavaliere di bastoni e la regina di spade e poi il sei di denari. Questa è una carta molto interessante perché il sei di denari indica un equilibrio comunque anche sul piano materiale un equilibrio quindi anche diciamo che anche se il vostro istinto sarebbe appunto di andare verso una zona sconosciuta, no? Un terreno non noto in realtà non non avreste conseguenze materiali eccessivamente pericolose, negative insomma comunque rimarreste abbastanza stabili con il sei di denari. Dunque le conseguenze vediamo che c'è una carta di forte movimento di forte energia anche di spostamento per alcuni di voi proprio fisico nel senso un cambio di residenza dei viaggi delle esplorazioni proprio con il cavaliere di bastoni che è appunto una forte una carta di forza di una carta di slancio energetico molto molto importante e sta andando verso l'eremita quindi è comunque le conseguenze di questa vostra scelta vi porterebbero a esplorare appunto delle zone sconosciute e probabilmente anche a isolarvi inizialmente perché l'eremita appunto la persona che sta per conto proprio perché ha bisogno di stare con se stessa di fare ricerca di esplorare appunto un terreno sconosciuto con la propria lanterna di fare luce su alcune cose quindi anche metaforicamente non è che per tutti di voi si tratta di un viaggio verso fisicamente una zona del mondo sconosciuta però proprio di esplorare situazioni diverse diverse e quindi inizialmente sareste un po' isolati la regina di spade vi dà un po' le spalle a queste altre due carte quindi è un po' confronti in uno stato di confronta di confronto di non sta proprio in linea con le altre due carte sta guardando verso una direzione opposta quindi probabilmente avrete sempre un po' un conflitto interno tra la parte più passionale che è rappresentata da il cavaliere di bastoni e la vostra parte più razionale che è rappresentata dalla regina di spade che vi consiglia sempre un po' di tenere la testa sulle spalle la regina di di spade mi dà l'idea posizionata in questo modo che significherà anche tagliare un po' i ponti con delle situazioni appunto precedenti a questa decisione ovvero che seguire il vostro istinto la vostra intuizione vi porterà appunto a un po' isolarvi e un po' a tagliare i ponti con situazioni vecchie che probabilmente finirebbero la loro funzione nella vostra vita e quindi potrete in questo modo correre spedito come il cavaliere di bastoni verso appunto questa zona più sconosciuta vediamo poi i fattori che dovete tenere in conto nel momento in cui decidete i pro e i contro il pro è il 10 di spade e il contro è il 9 di denari dunque il fattore a favore di seguire questa scelta diciamo istintiva questa via più in linea con il vostro istinto sarebbe che porrebbe fine a un periodo difficile per voi perché il 10 di spade indica il culmine e la fine anche di un periodo appunto difficile vedete questa persona proprio pugnalata tra le spalle arriva al mare però appunto in fondo nel background nello sfondo c'è il sole che sta per sorgere l'aurora e quindi indica proprio la fine di un periodo un po' depresso un po' un po' difficile per voi che appunto avverrebbe nel caso seguiste il vostro istinto d'altra parte invece a livello di fattore contrario di cui tener conto abbiamo la il 9 di denari che indica appunto probabilmente una maggiore indipendenza che però in questo caso vi peserebbe cioè rimarrebbe sempre un po' il concetto dell'isolamento di solito il 9 di denari è una carta di stabilità materiale che quindi in questo caso probabilmente in realtà punta molto sul fatto che sareste autonomi totalmente quindi dovrete fare e poggiare su voi stessi in toto dovrete essere molto indipendenti dovrete essere molto autonomi e per certi versi potrebbe anche pesare ad alcuni di voi quindi tenete in conto di questa situazione poi il 9 di denari in generale indica appunto una ricchezza anche a livello proprio materiale che potrebbe appunto lasciarsi desiderare magari nel breve periodo non raggiungerete questo tipo di soddisfazione a livello materiale però appunto una certa stabilità un certo equilibrio sicuramente non vi mancherà questo quindi non non è una decisione in realtà che peserebbe molto dal punto di vista materiale vediamo poi il consiglio delle carte su che cosa tenere in conto su che atteggiamento ci può aiutare ed è guarda caso l'eremita che appunto richiama proprio l'eremita dei tarocchi quindi sicuramente dovrete tenere in conto e vi aiuterà anche questo isolamento che inizialmente sentirete o comunque questa volontà di ricerca di esplorazione questo atteggiamento curioso di di studio di di esplorazione anche interna non solo esterna è un atteggiamento che sicuramente vi aiuterà è un fattore di cui tener conto nella vostra decisione se seguire o meno questa via secondo quanto la vostra intuizione il vostro istinto vi dice bene spero che questa lettura vi sia stata di aiuto vi abbia dato degli spunti di riflessione se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da un perdere i prossimi interattivi e noi ci vediamo presto ciao bene bene e siamo arrivati alla seconda variante quella della venturina verde vediamo subito le energie in cui vi trovate in questa situazione con le carte dixit dunque e abbiamo questa carta che mostra degli omini tra l'altro in giacca e cravatta che si dirigono verso la serratura di questa porta verde per entrare dall'altra parte sembrano addormentati sono addormentati mi dà proprio questa impressione ed ha un po' l'idea che chi ha scelto questa variante stia seguendo un po' la corrente senza porsi tante domande senza quindi neanche rendersi conto che sta seguendo la corrente e tra l'altro non so se notate ma questa porta è aperta mentre questi questi omini vanno verso la serratura per poter entrare dall'altra parte quindi mi dà un po' l'idea che non vi rendiate conto che avete appunto una soluzione anche più semplice più facile per ottenere il il vostro obiettivo ma che stiate seguendo appunto la scia dei percorsi già stabiliti che però vi portano in realtà verso una strada più difficile più tortuosa in questo caso rappresentata appunto dalla serratura della il buco della serratura della porta e quindi è un po' come si come se seguiste la corrente seguiste un percorso già prestabilito mentre in realtà per poter andare oltre per poter avanzare ci sarebbe una soluzione più semplice ma non la vedete perché appunto siete un po' così seguite la corrente non vi rendete tanto conto che ci sono altre possibilità vediamo però i dettagli le conseguenze della vostra decisione se poi decideste di seguire appunto il vostro intuito il vostro istinto e abbiamo il paggio di denari il giudizio e la regina di coppe poi come ultima carta la ruota della fortuna dunque la ruota della fortuna indica un forte cambiamento che è un po' però nell'ordine delle cose ovvero che è un po' nel vostro destino se vogliamo vederla un po' in maniera esoterica comunque un forte cambiamento nella vostra vita quindi se nel caso seguiste il vostro istinto la vostra intuizione vi trovereste un po' a cambiare tutto quanto la situazione in cui vi trovate nel mezzo di un forte cambiamento tendenzialmente però un cambiamento positivo perché abbiamo la carta del giudizio che indica una rinascita un risorgere secondo questa carta proprio dalla tomba nel senso che appunto una rinascita una una gioia una una carica vitale nuova perché evidentemente seguite qualcosa che vi piace il paggio di denari indica una crescita un progetto che vi permetterebbe di crescere come persona o come professionista se è qualcosa che riguarda il vostro lavoro appunto imparare nuove competenze di trovarvi a dover migliorare voi stessi anche a livello personale perché appunto il paggio di denari indica proprio qualcosa che si impara un percorso di studi per alcuni di voi un apprendistato comunque un nuovo progetto che vi arricchisce quindi questa appunto questo nuovo progetto questa scelta seguendo il vostro istinto vi arricchirebbe vi darebbe nuovo entusiasmo una rinascita anche a livello materiale e sicuramente vi darebbe l'energia della regina di coppe ovvero una persona molto riflessiva molto intuitiva molto molto sensibile e ricca dal punto di vista relazionale quindi ci sarebbero dei vantaggi anche dal punto di vista relazionale e un equilibrio a livello emotivo quindi tendenzialmente vedo una progressione un miglioramento della vostra situazione da parte vostra vediamo i fattori pro e contro di cui tener conto a livello a livello di pro abbiamo il 4 di coppe livello contro abbiamo il 9 di bastoni dunque il 4 di coppe indica solitamente noia mancanza di entusiasmo quindi in una posizione favorevole indica proprio che vi vi trovereste nella situazione di avere più entusiasmo ma soprattutto ci sarebbe una opportunità per voi un'offerta ad accogliere che vi porterebbe appunto a ritrovare il vostro entusiasmo a avere una rinascita un risorgimento appunto vedete c'è una mano che offre una coppa questo giovane sotto un albero e che tendenzialmente vorrebbe rifiutare beh questo indica che vi sarebbe offerta appunto un'opportunità di ritrovare entusiasmo di seguire le vostre passioni di seguire ciò che vi rimane naturale i vostri e di utilizzare i vostri talenti dal punto di vista invece contro quindi fattori contro di cui tener conto il 9 di bastoni indica che vi porterebbe un attimo sulla difensiva evidentemente sarebbe anche una situazione che in cui dovrete magari difendervi in cui dovrete verranno fuori tutte le vostre paure dovute ad esperienze passate perché questa persona è ferita vedete in mezzo alla carta e si trincerà dentro un recinto di bastoni quindi è una situazione una decisione che porterebbe insialmente se non altro appunto essere sulla difensiva anche perché appunto implicherebbe un cambiamento abbastanza importante con la ruota della fortuna quindi questo è da tenere assolutamente in conto nel momento in cui decideste di seguire il vostro istinto vediamo poi il consiglio della carta degli archetipi su che atteggiamento vi aiuterebbe di più in questa decisione e abbiamo la damigella la damigella è la si intende la damigella delle fiabe quella che viene soccorsa dal principe azzurro che aspetta appunto qualcuno che la salvi è un archetipo abbastanza comune nelle favole appunto e vi vorrebbe appunto ispirare nel senso di cercare di fare affidamento su voi stessi non cercare aiuti esterni non poggiarvi sull'aiuto di altri bensì di trovare la forza in voi stessi in questa decisione perché appunto la forza ce l'avete le qualità ce l'avete avete tutte le informazioni necessarie per poter prendere questa decisione è anche una carta che ricorda secondo me molto la regina di coppe che è una persona anche molto romantica quindi evidentemente cerca anche di comunicarvi che se seguiste il vostro istinto dovrete anche un attimo sicuramente vi trovereste in una situazione in cui il vostro lato più idealista verrebbe fuori seguireste appunto le vostre passioni qualcosa che vi ispira che vi piace di più però appunto allo stesso tempo la regina di coppe è una persona matura non è un paggio di coppe non è un cavaliere di coppe che si fa trascinare dalle proprie emozioni una persona matura dal punto di vista emotivo e quindi anche questo che vi sta dicendo la carta dell'archetipo della damigella ovvero che comunque a livello emotivo questa scelta vi aiuterebbe molto nel maturare nel credere in voi stessi e nelle vostre qualità per appunto affrontare qualsiasi tipo di situazione bene spero che questa piccola lettura vi sia stata d'aiuto vi abbia dato degli spunti su cui riflettere se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi e noi ci vediamo presto ciao ed eccoci alla terza variante quella del quarzo di rocca vediamo subito le energie della situazione in cui vi trovate con le carte dixit e abbiamo questa carta dove si vede una fanciulla completo da viaggio con le valigie e anche con la gabbietta per l'uccellino che appunto sta aspettando un treno comunque si è organizzata per fare un viaggio anche abbastanza lungo mi dà l'idea considerando il fatto che c'è porta con sé l'uccellino però però appunto il passaggio del treno non viene perché appunto la la strada è fermata no vedete c'è un blocco cioè non continua più quindi le rotaglie sono proprio interrotte quindi mi dà proprio l'idea che state in una situazione dove vi state preparando vi eravate preparati a degli obiettivi di lungo periodo a anche cambiare in maniera importante a fare un'esperienza di lungo periodo a organizzarvi per appunto anche un cambiamento per alcuni voi probabilmente anche un cambiamento di sede di città e che però appunto vi rendiate conto che in realtà c'è un ostacolo non riuscite ad andare avanti non riuscite a progredire nei vostri piani per fattori esterni perché appunto la strada si è bloccata non quindi non c'è non c'è più la strada che stavate seguendo ecco e quindi siete probabilmente anche un po' col punto interrogativo in testa nel momento in cui non sapete bene come proseguire nei vostri piani vediamo un attimo i dettagli dei tarocchi che per vedere le conseguenze della vostra decisione è il caso appunto decideste di seguire il vostro istinto la vostra intuizione e abbiamo la carta della forza la carta del paggio scusate il cavaliere di coppe e la carta del re di bastoni poi la carta degli amanti dunque la carta degli amanti indica appunto un bivio evidentemente sta a indicare che se seguiste il vostro istinto vi trovereste comunque nel dover fare una scelta importante nella vostra vita perché è un arcano maggiore la carta degli amanti e perché indica appunto un bivio importante davanti a voi sicuramente è una strada che muove le vostre corde interne perché abbiamo il cavaliere di coppe che di solito è una persona che segue molto i propri ideali segue ciò che gli piace fare vi porterebbe come conseguenze a seguire appunto il vostro come dire le vostre passioni e queste passioni vi portano alla carta del re di bastoni ovvero una persona una energia molto matura molto manageriale può essere anche dal punto di vista professionale un imprenditore quindi vi porterebbe a essere in grado di gestire un'attività potrebbe anche comunque indicare un'energia molto sicura di se stessa con una forte leadership con un forte carisma quindi sicuramente se seguiste il vostro istinto riuscireste appunto a seguire le vostre passioni questo vi darebbe maggiore sicurezza in voi stessi maggiore forza interiore e forza è anche appunto la carta in apertura che è appunto l'arcano maggiore della forza che indica che dovrete comunque fare appello alla vostra forza interiore non si intende con questa carta una forza diciamo temporanea è più il concetto di resistenza quindi dovrete essere disciplinati dovrete avere una routine seria degli orari da rispettare comunque una forza di autodisciplina di costanza di resistenza sarà una via che necessiterà queste vostre qualità come necessiterà e riuscirete a far venire fuori le qualità appunto sia del re di bastoni che appunto ho detto la qualità che riguarda il carisma riguarda la leadership la sicurezza in se stessi e anche qualità che indicano un certo rispetto dei propri valori dei propri ideali delle proprie passioni con il cavaliere di coppe vediamo adesso cosa tenere in conto nel prendere questa decisione e seguire meno l'istinto con le carte pro e contro come pro abbiamo il paggio di spade come contro abbiamo la torre dunque il paggio di spade come fattore a favore scusate e indica appunto una certa curiosità spirito critico possibilità di acquisire nuove conoscenze nuove competenze di avere di migliorare se stessi dal punto di vista intellettivo la propria conoscenza quindi sicuramente i fattori a favore sono un miglioramento della vostra situazione mentale più giovane più fresca più vivace è una decisione quella di seguire il vostro istinto che vi porterebbe appunto a sentirvi per un verso ringiovaniti ecco più curiosi più vitali più coscienti del di cosa vi sta attorno di cosa vi circonda e anche di in parte difendervi un po' meglio dalle persone e da i vari condizionamenti che potrebbero essere attorno a voi perché questo paggio vedete un po' sulle difensive quindi vi permetterebbe di difendervi da eventuali condizionamenti esterni dal punto di vista negativo dovete tener conto che se seguite il vostro istinto il vostro intuito e prendete questa decisione di seguirlo dovrete cambiare molte cose cioè la torre indica appunto un mondo che si che cambia che viene meno dei parametri mentali che vanno a cadere delle dei costrutti mentali che delle sicurezze che ci siamo costruiti e dovremo assolutamente vedere le cose in maniera diversa cambieremo totalmente e cambierà anche il mondo attorno a noi quindi questo ci può inizialmente portare dei problemi perché appunto la torre indica paura sconvolgimento senza farla grossa però insomma sicuramente tutti i cambiamenti soprattutto se non programmati portano con sé una certa paura una certa fragilità quindi inizialmente avrete questo stato un po' mentale di dover ristrutturare voi stessi di dover vedere le cose da un punto di vista diverso di dover ricostruire un po' la base da cui ripartire quindi sicuramente è una decisione che porterà forti cambiamenti che vi spaventeranno vi daranno un po' di disagio all'inizio di questa nuova fase però appunto soprattutto tenete in conto che è una decisione importante per la vostra vita come indica la carta degli amanti che però appunto mi dà l'idea considerando che c'è il cavaliere di coppe qua che comunque è una decisione che implica una scelta se o meno seguire delle vostre passioni qualcosa che amate vediamo adesso cosa ci dice la carta degli archetipi su che tipo di fattore anche tenere in conto durante la decisione e che atteggiamento vi potrebbe aiutare e abbiamo la carta del vampiro allora indica appunto il vampiro si intende un po' il vampiro energetico non so se avete presente si intende persone o situazioni che ci tolgono energie che ci condizionano che ci limitano nei movimenti ci succhiano un po' energia ecco questa carta sta a indicare appunto che dovete essere più attenti più coscienti dei condizionamenti esterni in questa decisione perché appunto evidentemente potreste essere influenzati nel bene e nel male da persone o da situazioni esterne a voi e questo vi limiterebbe nella decisione perché appunto è una decisione che riguarda la vostra vita riguarda voi stessi e dovete essere secondo le carte appunto più autonomi quindi state attenti a non farvi condizionare in questa scelta da fattori da situazioni o da persone soprattutto esterne bene spero che che questa che questa lettura vi sia stata di aiuto vi abbia dato degli spunti di riflessione se vi è piaciuto il video vi invito a mettere like a iscrivervi al canale se non avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i video successivi e noi ci vediamo presto ciao